Devo soltanto dire che è chiaro che Salvini si troverà prima o poi a dover sbattere il muso su Casa Pound per un semplice fatto, ricordiamo l'edificio occupato da Casa Pound al centro di Roma Allora la domandina, se me lo fai dire poi rispondi Allora la domandina è questa, perché quell'edificio che è un edificio di pregio non viene sgomberato al di là dei fatti burocratici perché io credo che il ministro degli interni Matteo Salvini abbia qualche problemino a mandare la forza pubblica a sgomberare un edificio occupato da persone che non si faranno disoccupare tanto facilmente tanto per parlarci chiaro, io credo che Salvini abbia paura di andare a far sgomberare l'edificio di Casa Pound e se lui può smentirmi e può smentirlo lo faccia subito